Coronavirus continua il calo dei positivi in provincia e in Veneto. Stando al bollettino di Azienda Zero, i casi attualmente registrati a Belluno sono 1630 con 17 ricoveri al San Martino e 5 al Santa Maria del Prato. Le terapie intensive continuano a essere vuote. Dall'Ulss Dolomiti il report, scuole settimanale, meno 33 le classi in carico negli ultimi sette giorni, non si rilevano più quarantene, aspetto che evidenzia l'assenza di classi con contagi multipli per tutti i gradi di istituto, 5 o più casi per le scuole dell'infanzia o istituti primari, 2 o più casi per istituti secondari di primo o secondo grado. Viene sottolineato inoltre un lieve aumento delle classi degli istituti secondari di secondo grado con un positivo, le classi oggetto del report sono maggiormente localizzate nella zona di Belluno e del Cadore. Da Venezia il governatore Zaia ha commentato il calo di contagiati e ricoverati che si sta verificando da qualche settimana. Stiamo raggiungendo i minimi storici, ha dichiarato il Presidente in diretta. Penso che non azzereremo le presenze dei pazienti Covid negli ospedali ma diventeranno semplicemente ricoveri di routine. Che non andrà a ingolfare o fare impazzire le nostre malattie infettive, le pneumologie, ma ci saranno sempre dei pazienti Covid. Il modello matematico cosa ci dice? Ci dice che abbiamo una previsione a 7 giorni di 47 persone in terapia intensiva e 495 in via teorica di area non critica. E anche l'incidenza sta precipitando. Sostanzialmente siamo in una fase assolutamente performante. Dall'assessore Lanzarengo un pensiero sui profughi ucraini e sulla loro gestione sotto il profilo sanitario. I numeri che ci danno le USLA ieri sera sono di 350-360 tamponi eseguiti. Di queste 360 persone ne hanno trovate circa una quindicina di positivi che sono poi scattate le misure di isolamento e le misure previste.